Il Museo Navalla di La Spezia Il Guglielmo Marconi per quanto riguarda la creatività ovviamente può essere un esempio. Allora intanto devo precisare che non è la prima uscita pubblica, abbiamo fatto già la conferenza stampa sullo Stato Espezina, diciamo che è la prima uscita pubblica in cui si parla della storia della nostra città, della sua crescita e delle opportunità che la creatività applicata alla ricerca scientifica, grazie a una mente plastica come quella di Guglielmo Marconi, può portare, ha portato e potrà portare in futuro con casi analoghi beneficio al nostro paese. È una rievocazione molto importante e è una strada su cui dobbiamo provare a continuare in futuro.